EOS 2024, siamo allo stand Browning con Fréveric Colombier, amministratore di Browning Winchester Miroku Italia e con noi ci sono le nuove versioni della BAR 4X che dopo aver debuttato l'anno scorso con la calciatura in legno da quest'anno sono disponibili anche con le calciature sintetiche, quindi in versione composite. Fréveric, ci vuoi raccontare un po' la novità? Sì, l'anno scorso effettivamente abbiamo messo sul mercato la nuova carabina 4X con il calci in legno, quest'anno abbiamo ampliato la gamma, arriviamo con un calcio composito con varie finiture, in questo caso qua ci sono gli inserti arancio, arriviamo con calcio regolabile in altezza, in deriva, proponiamo anche una versione che chiamiamo Trax per tutti i nostri amici appassionati che vogliono un'arma sicura, con la sicura hand cooking, un'arma compatta, maneggevole, canna a lunghezza 47 cm, quindi molto 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 bella, molto affascinante. Poi proponiamo anche una versione limitata in anteprima che si chiama il modello autunno con un trattamento particolare, abbiamo messo tre tipologie di oro diverso sull'incisione, veramente un'arma molto affascinante con un legno di grado 4, quindi quest'anno è dedicato a tutti gli appassionati della caccia cinghiale. E resta confermata la possibilità di configurare la carabina secondo le proprie necessità, quindi si sceglie il gruppo? Sì, allora sul sito internet della Browning, browning.eu, abbiamo un configuratore. Il configuratore vi permette di vedere tutte le possibilità che vi propone questa carabina modulare, possibilità diverse a livello di organi di mira, bindella, alza, mirino, potete avere un'ampia scelta, il Browning monte, poi le possibilità a livello di calciatura che diventano, come spiegavo prima, ormai numerose ed è solo un inizio. Certo, quindi non abbiamo un prezzo preciso perché dipende da come si configura l'arma, però possiamo dire a partire da? A partire da 1600 euro per un modello composito. Ma questo, sul fatto di configurare un'arma, è il senso della storia, è quello che i nostri amici cacciatori aspettano da noi e possono vedere tranquillamente sul loro telefonino, sul loro tablet, la versione che a loro piace di più e dopo andare dal loro armeria di fiducia per comprarla. Questi modelli qua arriveranno sul mercato italiano a partire da maggio, giugno, luglio. Quindi perfettamente in tempo per la prossima stagione di caccia. Sì. Grazie mille.